Grazie agli amici di Star Casino Sport, sono qui con due leggende del Milan, no, due leggende del calcio mondiale. Roberto Donadoni, Demetrio Albertini. Lui immortali, invincibili, Demetrio Albertini invincibili, poi vince lo scudetto del centenario. Roby, parto con te, classe, dribbling, tiri da lontano, imprevedibilità, poi anche questo piede dolce, questo piede morbido, questo entusiasmo che tu hai regalato ai tifosi. Come ti piace essere ricordato da giocatore del Milan di quegli anni? Ma no, non ho un desiderio particolare, se non quello di pensare e sperare che comunque la gente che tifa a Milan, i nostri fan, i nostri supporter, insomma, abbiano potuto godere di quella fase, di quel periodo e quindi di aver contribuito in qualche modo a dare loro delle soddisfazioni, poi i termini o le… Scusa, Lucia San Siro. Sì, insomma, tutte queste cose, è chiaro che fanno piacere, è indiscutibile, però insomma, rimane una parentesi più o meno lunga di un'attività che era la cosa che ci piaceva fare, il sogno che avevi fin da ragazzino, anche se puoi pensare da ragazzino che un giorno potrei calcare il manto di San Siro o indossare la maglia del Mena piuttosto che della Nazionale, è difficile, però quando fai una cosa con tanta passione, poi piano piano le cose vengono da sé e quindi abbiamo goduto veramente di un bel periodo e mi auguro che i tifosi con noi abbiano condiviso queste soddisfazioni. Una domanda attuale, Roberto. Il tuo primo anno non fu un anno strepitoso. Tu sei arrivato nel 1986, il primo grande acquisto di Silvio Berlusconi, e non fu un anno strepitoso. Un po' quello che succede a Ciarda e Chetelare. Come si esce? Questo impatto, un po' di fatica, tutti ti aspettano. Come si esce? Tu sei riuscito alla grandissima. Beh, direi che insomma il primo anno è stato difficile un po' per tutti. Il presidente Berlusconi aveva acquistato la squadra, aveva probabilmente già in mente di fare tanti cambiamenti. La stagione è stata una stagione difficilina. Siamo riusciti a qualificarci per l'Europa League, allora Coppa UEFA, allo spareggio se non sbaglio con la Sampdoria. E, oltretutto, in quell'occasione il governatore non era più Nils Lidon, ma aveva cambiato il presidente con Fabio Capello. E direi che è stato veramente un anno particolare. Ma sul piano personale tu come se ne esci? Semplicemente avendo la convinzione e la certezza che le tue qualità, se continui a lavorare in un determinato modo, prima o poi vengono fuori. Quindi non bisogna farsi distrarre troppo da quello che accade fuori. Chiaro che San Siro è la gente, il pubblico, è un pubblico esigente ed è un pubblico che ti mette pressioni. Se carattericamente non hai questa forza di volontà, diventa difficile. Mi è capitato negli anni di vedere altre situazioni di giocatori che altrove avevano fatto bene. E poi a San Siro facevano veramente fatica. Ho visto anche qualcuno piangere. E quindi, però, insomma, è la nostra professione. Bisogna avere veramente questa forza di volontà, questo carattere per venirne fuori. E credo che lui abbia tutti i mezzi per poterlo fare. Prima di passare a Demetrio, l'ultima domanda, e poi ce ne saranno delle altre, ovviamente per Roberto Donadoni. 21 marzo 1990. Sono passati 33 anni. Ma nessuno dimentica, forse una delle partite più belle di Roberto Donadoni. Paradossalmente la partita che poi non finì. Perché? Parlo di Milan Malin. Hai giocato una partita straordinaria, poi una manata all'espulsione dopo essere stato picchiato. Cosa ricordi? Sei d'accordo con me che è stata una delle partite più ispirate della carriera di Roberto Donadoni? Beh, sei, era una partita importante, per cui sapevo, ricordo ancora un po' le sensazioni che provavo a Milanello, precedenti il match, insomma, quindi quando fiuti quel tipo di atmosfera sai che non devi, non puoi sbagliare, così un po' è stato. Mi hanno un po' maltrattato durante la partita, mi hanno anche sputato, che è una cosa che veramente non potevo accettare e vivi un po' la reazione che ho avuto, ho sbagliato comunque perché poi non mi ha permesso di disputare la finale di Champions o di Coppa, e quindi anche quello è stato un'ulteriore beffa. Però, insomma, in quella squadra non era poi così tanto difficile fare bene, dimostrare quello che era il tuo valore perché avevi di fianco dei compagni che ti aiutavano. Ah, ecco, la data era l'8 settembre 1991, la settimana dopo il Milan affronta la Juventus, è sotto 1-0, mi sembra abbia segnato subito Schillaci, mi sembra, Schillaci. Poi al novantesimo, quando ormai il Milan sembrava sconfitto, era l'inizio di Capello, Capello aveva bisogno di, e veniva dopo Sacchi, aveva bisogno di morale e aveva bisogno di punti. Un tiro di Demetrio, incoccia la schiena di Tricella, portiere Tacconi, guarda così, la palla si infila. Fu il pareggio, un pareggio a Torino, bene, no, bene, no, perché il Milan evita quella sconfitta e infila 58 partite, aveva, gli avevano un paio dietro, 58 partite senza perdere. Ma oggi quando pensi a questo, cioè senza mai perdere, che cosa avevate dentro? Come mai, sai ci può essere la, voglio dire, la demotivazione, un calo di tensione, cosa avevate? Prima di tutto va detto che è stato bello perché si poteva uscire tranquillamente in città senza che nessuno contestasse, no? Ah, va bene, va bene. Quello era molto bello, però credo che quello che aveva quella squadra era che ogni volta ripartivamo da 0 a 0, non pensavamo a quello che era successo prima, ma non domenica dopo domenica, ma domenica il lunedì. Già il lunedì o martedì, quando ci ritrovavamo, era già un lavoro per la settimana successiva. Questo ci ha permesso di avere una, diciamo, consapevolezza dei nostri mezzi incredibile in quel momento, e poi dopo tanti anni, perché c'era, chiamiamolo, è iniziato con Roberto, comunque quelli di, dove c'era l'allenatore Sacchi, e poi è proseguito con Cappello con degli innesti diversi, perché prima c'erano i tre olandesi, però gli italiani, io dico sempre, che sono rimasti, no? E poi va detto, dipende molto quello che noi trasferivamo agli avversari. Gli avversari arrivavano da noi per cercare il pareggio, cioè di non perdere, non prendere più di due gol o di tre gol, quindi anche questo è contato tanto, quindi la loro paura, ma proprio perché il nostro stile di gioco, la nostra determinazione, le nostre qualità, mettevano, diciamo, timore agli avversari, prima ancora di scendere in campo. Roberto, nel 91 finisce l'era Sacchi, e ricordo il titolo, soprattutto dopo l'eliminazione contro il Marsiglia, il ciclo del Milan è finito. Avevate avuto dei dubbi che fosse finito il ciclo del grande Milan? No, a me onestamente non sfiorava neanche il pensiero, è chiaro che sono quei titoloni o quelle frasi che leggi, che senti, ma quando hai coscienza di quello che puoi fare e puoi dare ancora, tutto questo non può essere che stimolante, no? Allora diventa ancora una competizione nella competizione, e questo ci ha permesso poi di continuare a vincere, a fare risultati, a ottenere prestazioni di livello contro avversari che in quegli anni erano veramente forti, per cui anche il fatto stesso di misurarti con queste squadre qui, con avversari di un certo tipo, era la possibilità di crescere ulteriormente, no? E quindi di non fermarti mai, di non accontentarti mai, e come diceva prima Demetrio, dal martedì in poi, era anche tra di noi una sfida, quando facevi le partite durante la settimana, le classiche partitelle, che magari erano, come dire, fino all'allenamento, un po' l'accontentare i giocatori di non dover fare solo fatica, ma anche di divertirsi un po', finivano 2-1, 1-0, perché nessuno voleva mai perdere, e questo ce lo siamo portati dietro sempre.